Ciao ragazzi sono benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, oggi ragazzi live reaction dall'Olimpico di Torino, siamo qui nel settore ospiti Primi partiti del video ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace e iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto Mi raccomando ragazzi c'è il mio Instagram con sotto nella descrizione, andateci a fare un salto, andatemi a seguire per il post dall'Olimpico di Torino Per questo derby della Mole dove ragazzi siamo in difficoltà ma proprio grandissima, loro saranno gasati, secondo me sarà molto tosta Poi ti dico, secondo me quasi quasi dopo anni tornano a vincere il derby, però speriamo di venire sempre forza a Juve A differenza di qualcun altro che vuole tifare contro, vuole tifare per la sconfitta della Juve in questo momento così Si ti fa sempre comunque anche se si va male, quindi ragazzi entriamo dentro lo stadio all'Olimpico di Torino Ragazzi facciamo il nostro ingresso per il derby della Mole, il vento scorso all'Olimpico di Torino Dopo tanti 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 anni torno in questo stadio, ci ero venuto quando ero qui Ci siamo in stadio che ragazzi rispetto al nostro, ci vede la metà, la metà della metà, prove Speriamo di fare almeno una prestazione decente, però chissà che aspettativa anzi, prove Vai ragazzi 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 Sì, se l'entrata le formazioni in campo sta per iniziare il derby Inizia il derby Terza del derby, dai 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 Penso solo a te, forza Juventus, unico grande amore, una grande passione che c'è dentro di me Non è il derby, dai 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 dai, venuto a te, forza Juventus, unico grande amore, una grande passione L'Europa gioca lontano, poi al massimo adorba sano, da troppi anni cercate gloria, sono il super che ha fatto storia, quando dormi dal purgatorio, sogni sempre e acquisti d'oro, ma alla fine è la storia vera, che torino le biancolera, sono merda reale, sono merda reale, sono merda reale. Ma che cazzo fai il quadrato, madonna, hai una trecchia una cosa, ma sei da sola, è mezza l'aria su l'aria. Quattro, è il limite, sono qui i giocatori che portano, cioè voi potete avversare i liberi. Dai, tu vuoi santi, dai tu vuoi santi, dai tu vuoi santi, dai, 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 attaccare, tirare, attaccare, tirare, cazzo, dai, tirareci, andiamo in avanti. Tiro quadrato, non! Dai cazzo, va bene così, un uletto prima, andiamo avanti, dai, dai, credeci. Grazie, finisce il primo tempo, finisce la zona del primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione per aspettare, ragazzi, giovani ci sono il primo campione, ragazzi, speriamo. Dai ragazzi, in salto il secondo tempo, speriamo in meno, dai, dai, dai. Bella tu, San, dai Costici, guarda che c'era più. Ma porca troia ma dà la pena che c'era la sera Pioca e la luce! E' un gol! Dai, dai, dai! Non devono essere più completi se stessi azioni, bravo! Ragazzi, è troppo luce fuori bene, non so se si è fatto male, ma... Vai a vedere se dietro ne combiniamo qualcosa adesso. Oh, buono che passatevi! Mamma mia, da qua si vedeva l'ora! Da qua sembrava l'ora! Dai, c'è! Putta cazzo! Dai, c'è la sticcia! Nooo! Nooo! Cosa cazzo è successo? Noi, cazzo cazzo! Vai, cazzo! Vai, cazzo! Dai, cazzo! Dai, cazzo! Dai, cazzo! Dai, cazzo! Ma non mi è capace più, cazzo! Dai, dai, cazzo! Dai, cazzo! Cosa ha parlato su Braubi? Ma va, 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 va! Ma va, va! Ma cosa cazzo? Dai, cazzo! Dai, cazzo! Dai! Madonna, salta, lo vediamo molto e comunque l'occasione. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.